Non solo la presenza della CNN per questa edizione della battitura di Ponteburiano, venerdì sera a margine della festa contadina si inaugurerà alle 19 anche la mostra fotografica a volo di uccello, un viaggio tra i luoghi, i panorami e i tramonti delle terre di Leonardo da Vinci, un'esposizione delle tele di Diego Franchini e Roberto Acciari che rimarrà aperta a Ponteburiano fino al 30 di agosto. Ecco le immagini dall'alto della preparazione di questa esposizione particolarmente suggestiva. Grazie a tutti! Grazie a tutti!